grazie mi è occupato buonasera amici telespettatori questa è Sid sul tubo e la sua rubrica se si tratta di questa rubrica e la sua rubrica russaliana a punti russi di un'italiana abbiamo con noi Toshio TV con una montatura di occhiali diversa da professore noioso di tedesco che commenterà insieme a me l'argomento di oggi che sarebbe? che sarebbe la vita di uno specialista in lingua straniera è Mosca perché siamo entrambi specialisti di lingue straniere tra l'altro il sottotitolo che avevo messo a questo canale è lingue luoghi persone perché per me queste tre cose importantissime vanno insieme faccio anche io un po' la professoressa e quindi l'argomento delle lingue e di che cosa si può fare con le lingue e della diffusione della conoscenza di come funzionano le lingue e i linguaggi è un argomento che mi sta molto a cuore e penso che in realtà anche se tu spesso dici che lavorare con le lingue ti fa schifo a volte sì penso che questo argomento stia a cuore anche a te altrimenti non continueresti a usare le tue diverse lingue in tutte le salse beh su questo commenterò durante questo podcast ok infatti pagnale tema numero uno teaching insegnare sì insegnare io l'ho già raccontato in un video in cui racconto come ho ottenuto la cittadinanza russa che ora non è il tuo caso perché tu non sei un expat cioè sei nato e pasciuto in Russia ma nato e prosciutto pascere il greggio di pecore cioè portarle al pascolo e tu sei nato e pasciuto quindi born and grazed in Russia io no sono un expat che è un eufemismo per dire immigrata ma immigrata di serie A e e quindi io raccontavo in questo video insegnare lingue straniere è tuttora ed è stato credo negli ultimi vent'anni il modo più semplice per ottenere un visto di lavoro regolare in Russia ed è il modo in cui sono arrivata in Russia perché io sono arrivata in Russia nel 2012 come insegnante di italiano per russofoni il lavoro dell'insegnante di lingue oltre a permettere di avere un visto di lavoro è anche un lavoro che in Russia e specialmente in città come Mosca o Pietroburgo insomma nelle grandi città io posso parlare per Mosca è strapagato o meglio nel mio caso non è che poi chissà quanto strapagato fosse non sono stata molto fortunata o abbastanza furba in questo senso però c'è sempre la possibilità di arrotondare con studenti privati gli studenti privati soprattutto se sono quelli là che vivono dove vivono i ricchi sono gente che per imparare una lingua straniera è disposta a pagare anche 50 70 ma 100 euro l'ora spesso senza nessuna consapevolezza senza nessuna comprensione della qualità di quello che ricevono perché una cosa che io ho notato spesso qui diciamo dipende anche dalla lingua il madrelingua di inglese a Mosca può chiedere anche 100 euro l'ora a questi ricconi per insegnare l'inglese anche se non ha nessuna competenza a livello didattico e il fatto di essere parlante nativo di una lingua non implica che tu la sappia insegnare perché per insegnare una lingua ci vuole molto di più oltre a tanti strumenti a livello metodologico e a tante conoscenze non solo grammaticali della propria lingua ma proprio conoscenze di funzionamento della grammatica nelle diverse lingue competenze contrastive eccetera eccetera spesso è assolutamente spesso è essenziale capire non dico a un livello altissimo ma capire almeno un po' la lingua della persona che sta imparando la lingua che tu insegni perché questo ti aiuta a capire che tipo di errori fanno quali cose non capiscono purtroppo noi sappiamo bene che gli anglofoni spesso e volentieri non imparano lingue straniere perché a che cosa gli serve e quindi ti ritrovi questi qui che guadagnano molto più di te perché sono parlanti nativi di lingua inglese e guadagnano un botto di soldi mentre magari ci sono russi come questo favoloso uomo qui che parlano benissimo inglese e tra l'altro senza l'accento russo ma non senza l'accento russo come parlo io in inglese ma senza un accento russo ma imitando precisi accenti nazionali e regionali dell'inglese iscrivetevi il mio corso iscrivetevi al suo corso English Crash Course Speak Without an Accent e lui lui poverino guadagna meno di noi expat come insegnante semplicemente per il fatto che ha un passaporto russo perché questa gente soprattutto i ricconi ma fino a un po' di tempo fa cioè prima dell'inizio della guerra anche la gente comune tendeva a preferire il madrelingua su tutti i livelli solo per il fatto che ha un passaporto straniero senza andare ad approfondire più di tanto e quindi lui guadagna di meno io per quanto mi riguarda in questi 12 anni di Russia ho insegnato sia italiano che inglese inglese per 8 anni ho insegnato inglese pur non essendo madrelingua con la scusa che io ho studiato per un paio di anni accademici in Inghilterra e parlo molto bene inglese e sono qualificata e tutto quello che volete voi ma comunque anche io non è che sono madrelingua inglese e comunque non parlo inglese meglio di mio marito anzi lui parla molto meglio di me però di questa cosa lui vi racconterà di persone a dirti la verità non vorrei raccontare tutta la storia della mia esperienza come insegnante perché io l'ho già fatto in un video che si chiama perché ho smesso di fare insegnante per bambini non me lo ricordo neanche allora quindi il video sarà qua se vi interessa guardate pure e grazie comunque c'è un comico che noi due conosciamo che si chiama Adrian Niro stand up comedian come si dice in italiano uno stand up un comico stand up uno stand up uno stand up uno stand up sì che viene da Ontario sì dallo stato di Ontario e non mi ricordo la città lui ha raccontato in uno dei suoi stand up che ad esempio prendiamo due insegnanti una Svetlana Andreevna russa con un diploma in lingue straniere graduata dall'università statale delle lingue ha vissuto nel palazzo Buckingham conosce tutti i brani di The Beatles e sa rispondere qualunque domanda sulla grammatica inglese e poi c'è Adrian un canadese e poi c'è un riccone che che sta cercando un insegnante per i suoi bambini e chi sceglierà è certo che sarà sarà un Adrian perché ha un passaporto straniero sì è stato uno scherzo ma è la verità insomma così è la vita in Russia perché noi russi costiamo meno e infatti questa è la ragione per cui ho ottenuto questo lavoro come insegnante per bambini per quanti anni ah vabbè allora racconti nel tuo video sì sì due anni ho fatto questo lavoro due anni ho fatto questo lavoro e la ragione per cui la ragione esatta per cui ho ottenuto questo lavoro è perché ho cominciato a fare le chiamate a questi asili queste scuole materne parlando solo inglese quindi ho smesso di fare domande in russo e di presentarmi in russo ed è funzionato infatti è così ho ottenuto questo lavoro la prima volta perché ho fatto la chiamata in inglese poi ci siamo scambiati dei messaggini sempre in inglese poi ci sono arrivato ho parlato sempre in inglese e poi quando mi hanno già detto e va bene allora diciamo quando puoi cominciare colonne D e adesso non possono scappare perché mi hanno fatto delle promesse adesso non possono dirmi di no spieghiamogli che ACPR ACPR pra zarpoato significa e adesso parliamo dello stipendio parliamo della paga ecco esatto allora bisogna essere più furbo per diciamo aprire questa porta da russo comunque non è che ti cominceranno a pagare di più perché non puoi un segreto non si può mantenere anche se se ci lavori ti diranno che per bambini sei sei inglese o sei sei americano lui faceva finta di essere di dove ultimamente dagli stati uniti anche se non ci sono mai stato però ti hanno creduto per i bambini direi che anche se non mi sentivo a mio agio ma va bene per i bambini diciamo tecnicamente in quell'ambiente si poteva mantenere un segreto o io lo chiamo bugia ma con i con i proprietari ma è una bugia sì sì esatto è una bugia anche se sono padre adesso e mentire ma i bambini secondo me non è una cosa buona anche se quei bambini hanno dei problemi abbastanza gravi di questo ho raccontato già comunque noi abbiamo dimenticato di fare un preambolo lo facciamo quindi adesso perché postambolo facciamo un postambolo no perché ho detto che entrambi lavoriamo con le lingue e siamo si può dire siamo esperti si può dire siamo sicuramente non siamo dei professoroni universitari ma sicuramente siamo più esperti di tante persone che le lingue e il loro funzionamento non le hanno studiate perché è una professione cioè è come quando un attore cerca di convincervi che la sua è una professione reale o un medico cerca di spiegarvi in che cosa consiste esattamente la sua professione ecco quella del linguista o insomma in russo è una professione reale io posso dire che sono linguista perché ho un diploma e lì c'è scritto traduttore linguista ok perché in russia così scrivono su diploma io sono laureata in lingue e modelli culturali dell'occidente c'è scritto sulla mia prima laurea sulla mia magistrale c'è scritto che non è una magistrale è una specialistica c'è scritto letterature moderne comparate ma vabbè perché così si chiama poi io non ho capito bene quanto ci fosse di letterature comparate in quella laurea ma non ho nemmeno ben capito a che cosa mi serve perché molte delle conoscenze a livello di metodologia di didattica le ho apprese successivamente vabbè questa è un'altra lunghissima storia che racconteremo in un podcast che si intituderà la menzogna delle lauree ma non è questo il preambolo che volevo fare il preambolo che volevo fare è che finalmente siamo esperti di lingue ma quali ok io le mie lingue straniere di studio universitario sono l'inglese e il russo in più io ho studiato a scuola francese e tedesco me la cavo un pochino con lo spagnolo perché ho seguito dei corsi vabbè io sono un po' una language nerd studio turco su duolingo quindi per farvi capire e invece le lingue di Toshio sono secondo il diploma inglese e spagnolo lo spagnolo lo parlo lo insegno e ho vissuto anche nella Spagna e così per vita parlo italiano che ho studiato nel liceo quindi parecchi anni fa e è un po' ucraino ucraino non l'ho studiato formalmente ma quando lo leggo più lo leggi più lo ascolti più si capisce poi se c'è abbastanza curiosità si può anche cominciare a parlare vabbè per te poi è più semplice perché l'ucraino cioè spieghiamolo perché l'ucraino è simile al russo in quanto sono due slave diciamo diciamo sì che viene che appartiene alla stessa famiglia anche se non è non è troppo simile quindi se noi volessimo fare un paragone e forse tu lo puoi dire con più certezza di me se volessimo fare un paragone possiamo dire che l'ucraino è simile al russo come lo spagnolo è simile all'italiano magari sì cioè come per esempio quando si fanno questi confronti spesso si dice per esempio tra spagnolo e italiano ok sono simili francese simile all'italiano quando lo leggi sì però se ascolta un francese che parla sembra un po' più distante dall'italiano c'è più differenza c'è più differenza quindi tra ucraino e russo non c'è la stessa differenza che c'è tra il francese e l'italiano ma più o meno come spagnolo italiano direi sì ci sono delle cose simili ma non si può dire che si assomigliano proprio e se studi una lingua puoi anche parlare l'altra no piccola chicca della laureata in lingue questa domanda che facevo si riferiva alla mutuabile intelligibilità perché se le lingue perché tu come fai a capire che una lingua è la stessa lingua no perché se due parlanti parlano e quelle lingue che loro parlano sono mutualmente intelligibili più sono mutualmente intelligibili più sono vicine meno sono mutualmente intelligibili più sono distanti lui mi odia quando comincio a fare tutti questi tecnicismi facciamo un po' di facciamo un po' di Joe Rogan quando lui parla con un ospite e poi cominciano a guardare un video che non ha niente a che fare con il tema della loro conversazione ti ricordi che una volta mi ha mandato questo questo tipo che parlava la lingua artificiale che si chiama interlingua si che è basata su tutte le lingue lingue romanze si quindi tutte mescolate insieme chi per chi non lo sa cosa sono le lingue romanze italiano spagnolo francese portoghese rumeno ci manca qualcosa ladino ma ci sono anche dialetti vari si catalano in realtà anche il napoletano è una lingua romanza catalano questo tale ha cominciato a parlare io ho capito cento per cento anche se ad un tratto ho capito che non sta parlando né italiano né spagnolo allora passiamo all'altro tema ma non era l'interlingua mi sa parlava esperanto quel tema no 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 interlingua allora parlando del diploma oltre al linguista come ho già detto sono un traduttore e parlando della traduzione facciamo questo segway posso specificare perché in russo scrivono traduttore ma quello che lui ha studiato è quello che in Italia si chiama interpretariato e traduzione nel cartone è proprio interprete quando studiavo nella Spagna facevo traduzione e interpretazione si ecco allora ah cosa c'è cosa c'è come faceva quella musichetta che abbiamo visto ieri carosello carosello momento pubblicitario non mi hanno pagato anche per questo possa maron no ma per questo sì che ti hanno pagato mi hanno pagato per fare il lavoro sì esatto poi è finita là io non percepisco compenso per ogni volta che nomino questo libro e che lo consiglio non percepisco ulteriore compenso e non percepisco ulteriore compenso dalle vendite di questo libro no io no l'autore sì il traduttore non so come funzioni in altri paesi perché poi non mi sono andata ad approfondire tante cose perché non mi sono andata ad approfondire nemmeno la mia carriera di traduttrice che a un certo punto si è fermata e ha incominciato a stagnare non me ne do non me ne dolgo nemmeno ma sì cioè in Italia il traduttore di testi letterari ma penso anche di qualsiasi altro testo non percepisce royalties di alcun tipo cioè tu finisci di tradurre e spesso poi quando pubblicizzano il libro non ti nominano nemmeno quando fanno le presentazioni non si fanno venire nemmeno in mente di ricordare che guardate qua che in quinta di copertina si chiama così non ne sono sicura c'è scritto traduzione di A perché sto guardando l'originale traduzione di Sidney Vicidomini o Pinco Pallino o chi per esso sia comunque questo libro Denis Savielia di Grigori Slugeitsil pubblicato in Russia nel 2018 vincitore di diversi premi dei quali non ricordo il nome è stato tradotto da me e pubblicato nel 2020 con Brioschi editore con il titolo Il mondo secondo Savieli con la stessa copertina una copertina che io adoro sì questa è stata non è la mia prima esperienza di traduzione letteraria comunque ma è stata la mia prima esperienza di traduzione letteraria di un intero romanzo retribuita e che posso dire è stata un'esperienza molto piacevole tra l'altro io vi consiglio questo libro perché perché se di questo canale voi seguite la mia rubrica nonché playlist russaliana appunto i russi di un'italiana sicuramente mi fate sempre nella sezione commenti o mare di domande sulla vita quotidiana in Russia ma perché vivi in Russia eh ma è tutto brutto eh ma Putin eh ma questo eh ma quello a volte sono domande intelligenti a volte sono anche domande un po' stupide secondo me il modo migliore per incominciare a capire un po' come vivono le persone in un paese come ragionano le persone in un paese eh senza avere la possibilità di andarci di parlare con quelle persone è seguire le avventure di un gatto sì mh seguire le avventure di un gatto perché questo libro parla delle avventure di un gatto e un gatto molto umano perché lui pensa osserva gli umani e racconta come gli umani di Mosca vivono e racconta tutto un diciamo lui racconta cioè attraverso i suoi occhi noi vediamo diverse categorie di umani che vivono a Mosca i gopnichi gli immigrati del Kyrgyzstan le donne che sono disposte a tutto pur di avere un amante ricco che le mantenga le signore vecchie intellettuali che vivono negli appartamenti come quello che io vi ho fatto vedere dove viviamo noi viene descritta nel dettaglio Mosca anche i paesaggi di Mosca quindi secondo me è molto utile da leggere per chi ne vuole sapere di più anche perché quando spesso mi domanda no ma che cosa ti piace ma come mai ti piace così colà secondo me io non so se questo mio poi sforzo verrà mai ripagato io vorrei far capire alle persone che anche che le lingue sono lenti attraverso le quali noi guardiamo il mondo non sono soltanto materie di studio e oltre che lenti sono abiti che noi indossiamo quando io mi vesto di un'altra lingua io mi sento bene e vedere questo mondo attraverso altri occhi mi fa stare bene non è il solo fatto di vivere in Russia o di vivere a Mosca è il fatto di poter esplorare il mondo con altri occhi per questo se vi interessa potete esplorare Mosca attraverso gli occhi del gatto Savieli e secondo me questo vi aiuterà a capire un po' di più di come vivo io e perché mi piacciono certe cose che non sono oggettivamente belle me ne rendo conto posso fare un breve commento? certo se non mi sbaglio questo gatto passeggiava piuttosto per il quartiere di Taganka vero? sì perché è dove vive l'autore sì e Taganka anche mio padre ci è vissuto negli anni 60 che che in quell'epoca era la periferia ecco sì la periferia più pericolosa con sì con l'area più criminale di Mosca è la ragione per cui è menzionata abbastanza spesso nella cultura piuttosto sovietica anche nel 50 60 perché c'era un carcere Taganka Taganka non esiste più è stata demolita ma l'area comunque era pericolosa e ci avevano soprattutto i poveri e adesso è un'area piuttosto hip ci sono dei bar ci sono ci sono la movida c'è un po' di movida dai sì no no Taganka sì perché adesso adesso è centro linea circolare quindi vogliamo dire visto che tu avevi introdotto l'argomento della traduzione io ho voluto specificare interpretare la traduzione che c'è io non sono specificamente laureata in traduzione io sì sono laureata in lingue durante il mio corso di studi c'erano esami per i quali c'erano esami durante i quali una parte dell'esame era di tradurre testi di diverso tipo c'erano comunque degli esami che contenevano delle competenze teoriche pratiche di traduzione ma comunque non sono specializzata io non sono specializzata praticamente in nulla è la verità però spieghiamolo sempre per chi non lo sa perché magari può essere interessante che c'è una perché si dice interpretare traduzione perché c'è una grande differenza fra interpretare e traduzione cioè io sono capacissima di tradurre un testo letterario anche perché scrivo abbastanza bene in italiano ho questa verve così con il testo letterario anche in italiano ma potrei avere serie difficoltà a improvvisarmi come interprete simultanea o consecutiva anche se ho lavorato come interprete consecutiva mi è venuto bene però diciamo che facendolo mi sono resa conto che però uno specialista in questo campo l'avrebbe fatto meglio di me io non voglio fare non voglio raccontare tutta la storia sulla mia esperienza come interprete ma racconto solo una secondo me la più interessante quindi per quattro anni ho fatto l'interprete per una compagnia per assicurazioni con l'inglese perché era la lingua corporativa la compagnia sempre mi mi mandava a tradurre nei ristoranti su tutti questi events dell'azienda che facevano non troppo spesso ma se facevano una sempre ci stavo io per qualche ragione perché non so volevano dormire di più e una volta l'azienda ha organizzato per i capi filiali quindi l'azienda ha organizzato questa cena per i capi dei filiali e l'evento è finito circa mezzanotte e tutti erano già ubriachi tranne io perché stavo al lavoro quindi questo capo tedesco che stavo traducendo quella sera mi ha detto va bene adesso adesso puoi andare è mezzanotte giovedì tanto domani devi stare in ufficio quindi adesso puoi andare e tanto la compagnia aveva già pagato per tutte le bibite per la cena io stavo cercando una bottiglia di cognac nuova non aperta su una tavola no troppo vuota altra tavola e poi uno di questi capi si è svegliato stava facendo la ninna in un piatto la ninna si la ninna e mi ha detto mi ha detto guarda lì lì ci sono le bottiglie nuove grazie ho detto e si ho trovato delle bottiglie nuove ho preso una bottiglia di Rémy Martin che è un cognac fantastico e perché ci stai raccontando questa storia? perché così si fa l'interprete questa è una cosa da proseguire nei commenti infatti se ci stai seguendo e anche tu lavori con le lingue e sei come noi mi piace dirla così un operatore linguistico e culturale e un operatore di pace perché a me piace credere che chi opera con le lingue sia un operatore di pace scrivi nei commenti le tue domande e le tue esperienze e osservazioni sul lavoro con le lingue va bene però qual è la differenza quindi fra la traduzione e l'interpretariato? cioè proprio se tu devi sintetizzare in due o tre punti per esempio tu spesso mi dici che non avresti piacere a tradurre un romanzo perché? no assolutamente no perché? perché chi mi dai tu sei bravo a scrivere in russo perché chi mi dai Rémy Martin per questo lavoro? me ne frega proprio perché tanto io bevo pochissimo quindi ma non è non è non è it's not about drinking it's about the thrill ah well this is also about the thrill not for me anyway quindi si la differenza fra traduzione l'interpretariato che traduzione è noiosa interpretato no perché ci possono essere delle avventure inaspettate inaspettate per esempio? per esempio cena in un ristorante per la mafia georgiana si se ci entri da solo vedi Mercedes parcheggiati tutti neri G-wagons classe S e poi escono due georgiani da due metri ti dicono disannata ci sono i sabiti qui è occupato evento privato evento privato e se vai con con un'azienda con il capo dell'azienda dell'azienda chi conosce della gente molto speciale e ti fanno tu già sai che sei in un posto speciale questo lavoro non è non è molto semplice non è tanto noioso sì quindi sì la verità è sì che sono stato in un ristorante che è riservato o almeno era riservato in quell'epoca per per gli eventi per per le riunioni della mafia georgiana voice acting oh voice acting ho molta esperienza con questo questo è un altro dei lavori che si possono fare con le lingue a mosca io lo premetto sempre se qualcuno che sta cercando un lavoro a mosca con le lingue pensa di poter ottenere un visto per fare voice actor no il visto lo puoi ottenere per venire come insegnante a mosca adesso ma non so più nemmeno se sia così facile perché con tutta questa chiusura di confini che c'è con questa situazione così tesa a livello internazionale secondo me non c'è più quella bella atmosfera avventurosa che c'era 12 anni fa quando sono arrivata in ogni caso però se già ti trovi a mosca e le lingue sono la tua risorsa e se magari oltre a conoscere bene le lingue sai recitare sai lavorare con la tua voce cosa che sorprenderà molti di voi soprattutto un genio che ha risposto che ho le adenoidi ma non ho le adenoidi ah no glielo devo dire perché purtroppo non gli posso mostrare il dito medio questo è il mio modo di mostrare il dito medio il voice acting quindi il doppiaggio è una delle attività parallele che si possono fare per rimpensare un po' il salvadanaio no? e anche un po' per la gloria perché è divertente voglio dire c'è bello è divertente questo lavoro è davvero divertente e poi è bello quando tu per esempio guardi un film o una pubblicità e senti la tua voce sì e pensi oh ma quella sono io sì io ho fatto molto molta esperienza di questo lavoro inizialmente e per cinque anni ormai con Yellow Panda che è un'azienda quella quale io faccio anche video per bambini maggiormente video per bambini su YouTube Kids vi racconto di questa cosa in un altro video e lì ci sono molti video che vengono prodotti inizialmente in russo spesso dove ci sono anche solo giocattoli che parlano pupazzetti che parlano o anche dove ci sono dei personaggi umani come Masha Padungne che sarebbe la mamma della famosa Bianca di YouTube Kids Bianca e Carlo sono i figli di Masha lei tiene questo vlog mi chiamo Bianca e io ho doppiato molti episodi e quindi insomma quando voi vedete questi video di questi canali e sentite le vocine di Peppa George Mamma Pig Papà Pig e tutta la famiglia di Bianca spesse volte quella è la mia voce tra l'altro il lavoro che io facevo lì non era solo di doppiare ma mi dovevo tradurre anche i dialoghi da sola quindi di conseguenza li dovevo anche adattare di conseguenza quando c'era da fare lip syncing spesso dovevo anche adattare proprio il contenuto cioè allora la cosa interessante per chi non è pratico delle lingue per farvi capire che cosa succede dietro le quinte perché poi spesso io vedo che chi non capisce le lingue tende a dare per scontate delle cose e anche chi deve assumere chi fa questo lavoro non si rende contro e allora sembra che vabbè tanto tu la parli quella lingua due minuti lo fai perché ti devo pagare tanto invece spesso tradurre e specialmente tradurre per il doppiaggio è una cosa sì divertente ma è un divertit ma è un divertentissimo rompicapo perché ci può essere per esempio una frase che in russo è difficile da tradurre su diversi livelli il primo livello una frase per il doppiaggio adesso stiamo dicendo per esempio può essere difficile su un primo livello che può essere un livello semantico cioè praticamente in russo c'è quel modo di dire c'è quella battuta di spirito che un russo capisce perché si trova in un determinato contesto ma che in italiano non funziona è per fare quella battuta o per fare quella metafora in italiano serviranno altre parole e quindi magari la frase diventerà più lunga per spiegare tutto questo che poi può diventare più lunga già di suo perché magari quelle stesse parole in italiano sono più lunghe e poi può essere difficile da tradurre su un secondo livello che io devo fare entrare quella stessa frase con quello stesso significato perché altrimenti mi vado a perdere tutto il filo del discorso in una frazione di tempo e per giunta facendola coincidere col movimento delle labbra in modo da ingannare a quel punto ci diventa proprio un casino perché io non solo mi devo andare a trovare qual è l'equivalente di quell'espressione in italiano o fare la furbata se non c'è l'equivalente di trovare un'espressione che significhi più o meno una cosa che non mi fa perdere il filo del discorso ma devo anche fare in modo che quella frase contenga un numero di parole che può essere pronunciato in quella frazione di tempo e magari che in quelle parole capitino delle vocali che come apertura sono simili a quelle che vengono pronunciate nel video si avresti potuto utilizzare una sola parola sincronizzazione si ma loro non sanno cos'è la sincronizzazione quindi io glielo sto spiegando io recentemente ho lavorato nell'adattamento e anche come dialect coach per una serie sui giochi olimpici che verrà trasmessa cioè già è già in trasmissione cioè è già trasmessa in questo momento su Kino Poisk che è una piattaforma russa stavo dicendo che per doppiare si prende che per doppiare si percepisce di più che per sincronizzare pagano per questo lavoro che io ho fatto su questa serie sulle olimpiadi molto di più di quanto io abbia mai percepito per adattare i dialoghi semplicemente che trovo una cosa ingiusta perché adattare i dialoghi a volte è veramente una cosa difficile non so io cioè nella traduzione letteraria tu anche se devi trovare un giro se devi allungare addirittura a volte nella traduzione letteraria ti tocca di allungare di un paragrafo perché devi inventarti non lo so che il tale personaggio spiega quella cosa perché un nativo l'avrebbe capita ma tu non la capisci ma non c'è spazio nel doppiaggio per la nota a piedi pagina per allungare di un paragrafo per allungare non c'è quindi è molto più difficile però se voi che ci state guardando siete persone che periodicamente assumono persone per farvi sincronizzare i testi capite che questo è un lavoro difficile e che richiede molta astuzia molta competenza molto tempo tra l'altro io in questo lavoro sulla serie con i giochi olimpici ho spesso dovuto correggere errori fatti da persone che erano state assunte prima di me perché penso avevano assunto per far scrivere questi dialoghi di questi attori un russo che parla l'italiano ma non un madrelingua ora io non so come avessero verificato il livello di conoscenza della lingua di questa persona però era chiaro che in molti dialoghi c'erano cose che non suonavano italiane mo dico a voi serve di essere una caricatura degli italiani o volete suonare o volete no sound o volete apparire all'orecchio apparire all'orecchio come parlanti madrilingua no noi vogliamo che loro sembrino che questi attori sembrino parlanti madrilingua italiani perché adesso ce lo racconterai tu che hai avuto anche esperienze simili e io dico sì ma se voi volevate che questi sembrassero parlanti nativi dovevate assumere un parlante nativo all'inizio perché io ho dovuto poi correggere la pronuncia di questi attori c'erano i primi piani le battute già registrate non erano sincronizzate in italiano c'è maccheronico quasi a volte eh sì e quindi dico allora loro non sanno raccontagli di questo film che è famoso in ruso per i clucini italiani e i brassini le avventure degli italiani a mosca come parlano così eh io sono italiano sì tu dove andare io sì ti ho detto ho capito mamma mia mamma mia che bello podcast che stiamo seguendo oggi parlando di di un italiano falso piccola introduzione in questo lavoro queste aziende di produzione dei film per qualche ragione sono stanno sempre in fretta quindi se se fai un voice actor e quando vai allo studio di solito non ti spiegano nulla best case scenario ti possono dire due tre frasi che si tratta di un di un'avventura di questo carattere che fa che fa questo questo e questo e va bene tanto a me non importa e allora io facevo questo questo lavoro l'anno scorso una mia amica mi ha fatto mi ha introdotto al al capo di questa questa agenzia quindi adesso sto nello studio e io faccio il doppiaggio di un di un attore attore piuttosto comico e tanto la commedia russa moderna fa sempre schifo quindi non prestavo neanche intenzione e stavo dicendo una frase tipo mamma mia che bella spaghetti musica classica e io non è che mi fregava troppo e dicevo a me stesso va bene sta facendo finta di essere italiano per qualche ragione e poi ho chiesto al regista del doppiaggio scusa ma io adesso sto facendo una frase in un italiano piuttosto normale perché Sidi mi aveva aiutato con la traduzione e come mai lui questa frase cosa vuol dire ah ma lui interpreta anche se un attore russo un carattere italiano quindi sta cercando di imitare la lingua italiana io ho detto ma senti a dirti la verità meglio che lo avesse fatto in russo c'è sempre questa questione di lip syncing perché la traduzione di un italiano in un italiano normale doveva coincidere con questa che stava dicendo lui e poi c'era un altro attore nella stessa scena un minuto dopo Ararat Kishan che è un attore armeno con cittadinanza russa secondo me che insomma due lingue materne e anche lui stava interpretando un carattere italiano perché così si fa in Russia se è una faccia un po' esotica ti fanno fare finta di un italiano uno spagnolo lo diremo alla fine di questo discorso qui si fa specialmente adesso che ci sono problemi alle frontiere che è difficile invitare stranieri però è una parentesi che finisci di raccontare questa cosa dell'idiotismo no perché poi perché voglio che Anton che Toshio finisca questo racconto perché è sintomatico proprio dell'ignoranza che c'è intorno alle lingue perché si rovinano interi lavori cioè io ho lavorato con interi intere scene in cui era impossibile c'erano tutti i primi piani e si pretendeva da me che io correggessi e facessi sembrare italiani ma avrei dovuto lavorare con loro dall'inizio cioè loro credono me lo dicono anche quando io recito dicono ah ma tu recita l'italiana perché loro pensano che lo stereotipo che un russo ha di un italiano e di come parla un italiano cioè così oggi ho mangiato la pasta con il pomodoro loro pensano che corrisponda a come suona veramente un italiano in un film italiano ma in un film italiano nessun italiano fa così tutto il tempo ma tu hai mai hai mai visto un posto al sole si ma no così benvenuti sullo nostro podcast oh Jesus vediamo in questa scena dice una frase in armeno si una lingua che non parlo una lingua che non che purtroppo non parlo ancora e non riesco a percepire perché almeno perché ho chiesto alla regista del doppiaggio che è meglio che l'attore parla russo perché almeno posso percepire questa lingua e se c'è qualcosa che devo correggere se devo fare questo lip sync on the spot all'improvviso almeno per me è più facile operare con due lingue che almeno riesco a capire con almeno dico no ragazzi ma adesso che faccio ha detto una frase in armeno com'è che faccio coincidere l'italiano con poteva anche essere giapponese e com'è fatto alla fine cioè tu dovevi tradurre dall'armeno no non tradurre ma la frase in italiano perché l'armeno non importava ma la frase in italiano doveva coincidere con quello che stavo dicendo in armeno ok whatever he was saying e allora è finita così che per fortuna la frase doveva essere corta e ci doveva essere una parolaccia abbiamo ridotto questa frase a un un paio di vocali come apriva la bocca e se stavo dicendo a o o altri vocali e poi ci ho pensato non mi viene in mente che parolaccia ho detto ma almeno ho pensato di qualcosa si ma capirete qual era no ma se lo stavo dicendo in armeno queste vocali che insomma una parolaccia italiana pronunciata da me doveva coincidere con una parolaccia armeno si si che scrista ragazzi si abbiamo fatto qualcosa perché non potevo uscire dallo studio senza finire il lavoro e volevo volevamo spiegare perché perché dici ma perché voice acting no fa il dialect coach in italiano quindi dialect coach è la persona che questo è molto importante anche per te questo argomento iscrivetevi al mio corso il dialect coach è ok avete presente quando a recitazione voi studiate se avete mai studiato recitazione dizione quindi imparate la pronuncia standard dell'italiano quella lì che io userei per esempio per fare è un medicinale legge il tipo di pronuncia che io userei per fare una pubblicità delle supposte che differisce molto dalla pronuncia che io uso nei miei podcast e nei video di questo canale in cui non fingo mai di non essere campana comunque si fanno sti corsi ok però in realtà è importante non solo conoscere la pronuncia neutra di una lingua che molte lingue non hanno ma conoscere come pronunciano diversi personaggi a seconda della loro provenienza geografica quindi se tu sei un russo che recita la parte di un italiano e il regista vuole che tu sembri un italiano vero allora deve venire un dialect coach perché se tu non sei l'italiano non se ne esce ma anche se lo sai già potresti avere un accento russo terribile deve venire un italiano che ti insegna a pronunciare le parole in modo da sembrare quanto meno russo possibile questa è un'impresa proprio mega galattica soprattutto perché con mia grande sorpresa gli attori è una cosa che non smetterà mai di stupirmi perché io sono attrice ma senza un diploma di attrice ma dico ma avete studiato 5-6 anni cioè voi avete anni di action training alle spalle o e non sapete semplicemente ripetere un suono che vi dico di ripetere quando vi dico metti la lingua la lingua qui spostala in avanti spostala indietro rilassa la mascella non siete caspito di ripetere una cosa che io vi dico siete attori porca miseria come si irrigidiscono per pronunciare due sillabe di fila io non riesco a capire come sia possibile sta cosa e perché si fa tutto questo perché voi vi domanderete cosa che mi domando anche io ma scusate ma se vi serve uno che parla italiano come un matrilingue italiano ma non facevate prima chiamare un attore italiano nel vostro film e a quanto pare no per diversi motivi che adesso Toshio TV ci spiegherà perché pure tu ti sei trovato perché questo l'armenno doveva fare l'italiano non potevano chiamare non potevano chiamare a me che sono anni che cerco lavoro come attrice in Russia ma loro avevano bisogno di una voce maschile ok e perché la maggior parte degli stranieri sono scappati si è per questo si hanno lasciato il paese per sempre ed è quindi anche una questione di costi si esatto che farlo venire un momento un attore straniero qua che poi loro spesso l'attore lo cercano per il giorno dopo cioè domani urgentemente cerchiamo attore con gli occhi blu i capelli neri che sappia fare il fuete e sappia volare no anche se adesso in 2024 con la con le tecnologie con l'internet questo lavoro si può fare online si online si tanto se puoi chiamare una persona negli Stati Uniti che ha un microfono così che non costa troppo mi puoi fare un paio di frasi e mi mandi file che se così metto nel video nel film non sarebbe stato un problema chiamare chiamare una persona in Italia in Inglaterra o ovunque ma perché l'organizzazione di questo lavoro di tutte queste aziende così shambolic what is shambolic? I don't know this word when everything is tits up all the time tits up? yes like tits up? tits up means badly means means like when it's cold allora quindi perché ok ok it was just fun tits up con le tette in su cioè tutto è con le tette in su tutto il tempo si quindi organizzato molto molto male perché stanno sempre in fretta e chiamare uno che abita a Mosca e venire il giorno dopo è organizzabile ma con col loro dono di organizzare tutto così male chiamare qualcuno in un altro paese sarebbe proprio impossibile e perciò lo fanno e perciò devo entrare nello studio e devo ascoltare un armeno parlare la sua lingua anche se mi piace la lingua armena e vorrei parlarla qualche giorno ma non vorrei impararla così on the spot speriamo che questa conversazione sulle lingue e su che tipi di lavori si fanno con le lingue a Mosca sia stata interessante per voi se volete saperne di più fateci delle domande nei commenti se appunto volete condividere le vostre esperienze raccontatecele ci interessa molto anche come funziona in altri paesi se avete voglia di imparare qualcuna delle lingue che noi conosciamo o se avete voglia di seguire il corso di Anton in cui vi insegna che cosa insegni nel tuo corso dillo la pronuncia inglese è corretta insomma vi faccio conoscere i suoni come funzionano in inglese vi faccio sapere che non ci sono troppe difficoltà tanto tutti abbiamo corpi simili vi faccio credere che non c'è niente di impossibile ognuno può parlare inglese come come native speaker e se vi interessa anche imparare una delle lingue che io insegno potete farcelo sapere potete contattarci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale e al canale di Toshio TV e ci vediamo la prossima volta ci vediamo la prossima volta ciao ciao